Sono arrivati, come preannunciato anche nel Terramano, i 27 migranti, di cui 5 donne e nessun bambino provenienti dal CARA, centro di accoglienza per i chiedenti asilo di Castelnuovo di Porto, dell'Interland romano, la cui chiusura decisa dal governo e motivata dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, con una questione di eccessivi costi, ha suscitato nei giorni scorsi e continua a suscitare violenti, polemiche, politiche e non a livello nazionale. I quasi 30 migranti sono stati accolti tra le comunità attive oramai da anni nel territorio Terramano, anche se la prefettura di Terramano non ha voluto rendere noto dove sono stati accolti e in che numero. Sono arrivati il pomeriggio alle due e mezza circa, il trasferimento è andato bene, non ci sono stati malumori, la gente era tranquilla, sorridente. Anzi, posso confermare stamattina al risveglio, confermo che stanno bene, sono contenti di dove si trovano. Sono normali trasferimenti che avvengono anche per altri motivi, non necessariamente per le chiusure dei centri, quindi i ragazzi sono anche abituati, poi c'è solidarietà tra loro, incontrano persone di propria nazionalità. Fino adesso tutto bene. Qui si parla di 3-4 persone per ogni centro, non ci sono mai stati motivi di discussione sull'arrivo delle persone, tantomeno per 3 persone in un centro di accoglienza dove magari ne ospita già 15. Sono tutti centri, volevo dire, dove al massimo si raggiungono le 20 unità, sono quasi piccole famiglie, dove ci sono gli operatori costantemente, i servizi vengono dati tutti sotto stretto controllo della Prefettura e quindi non c'è niente di allarmante, è tutto normale. Qualcuno in attesa dei documenti, qualcuno ha fatto la commissione, sono in varie fasi di definizione dello status. Per quanto resteranno qui in provincia di D'Aramo? Lo stretto necessario per finire l'Iter.